Ad Cicatena una nuova seduta del Consiglio Comunale potrebbe essere convocata per venerdì prossimo, dopo quella di lunedì. Sembrerebbe questo l'orientamento delle forze politiche catenote che lunedì dovrebbero portare a casa, senza grandi patemi, il regolamento sui chioschi. L'emendamento della minoranza è stato modificato in modo da non confliggere con la normativa regionale, che invece prevede che a parità di punteggio tra i richiedenti abbia precedenza quello più anziano. Il regolamento è stato comunque congegnato per agevolare nei limiti del possibile i giovani. Lunedì il civico consesso catenoto sarà chiamato a votare anche il regolamento sull'Imu, mentre venerdì si dovrebbe procedere per quello sull'affidamento a animali. Nella seduta che dovrebbe essere convocata per venerdì, il Consiglio dovrebbe dare il via libera anche ad un esproprio per la realizzazione dell'arteria tra via Finocchiari e via Carcari. Grazie a tutti.